L'ultima volta abbiamo parlato di un duplice tipo di verginità nelle donne, la verginità di tipo religioso, che c'è anche oggi, e la verginità di necessità, perché non essendoci la pillola, ragazzi altri rimedi non c'è, anche se in farmacia si andava dal farmacista diceva, dottor Luca, insomma mi conosce bene, mi dica dottor, bravo, insomma vabbè, mi ricordo che una Lucia, che è morta e non ne citiamo nomi, perché anche citandoli, comunque si chiamava Lucia, questa aspettava un bambino, non lo voleva se santi che ne era, e si era messa in mente che doveva perderlo, e io l'avevo persuasa che no, perché personalmente io sono sempre stato contrario all'avorto, vabbè, questa cosa faceva, aveva una cucina che usciva su un pianerottolo di terra, poi c'era un muretto, quei muretti che sono stati fatti per mettere la terra e coltivare gli olivi, allora che era, muretto, scalette, olivo e saltino, questa faceva le scalette, l'andeva sul muretto e saltava giù, questo lo faceva quotidianamente, siccome non lo sapeva cosa fare, ma il bambino non se ne è andato, invece è nato di 4,2 kg, quindi vedete che una volta feva tutti i tentativi per abortire, ma il padre eterno quando non voleva fare gli aborti, ma tornando a questo tipo di virginità, la pillola ha cambiato totalmente, è un cambiamento che la gente non lo può neanche pensare, bisogna viverlo, ma ha cambiato la moralità, secondo il mio parere, perché la femmina aveva paura di rimanere incinta e quindi indirettamente c'era anche tutto un tipo di impostazione di vita particolare, l'arrivo della pillola le ha rese molto più sicure e quindi il rapporto sessuale è diventato meno pericoloso, l'avvento poi dell'aborto ancora di più. Torniamo agli antibiotici, allora diciamo che i farmaci che veramente hanno cambiato e allungato la vita, antibiotici, vaccini, quelli che hanno anche cambiato la vita nel senso della praticità sono tutti i farmaci antidolore, perché noi una volta quando uno aveva mal di dente con una pulpita ragazzi, o la morfina o se no non c'è niente, poi invece c'è stato l'avvento del cortisone, l'avvento di tutti i farmaci non steroidei, voltaren, occhi e compagni che hanno veramente cambiato il genere di vita, perché il dolore è stato notevolmente ridimensionato rispetto ai miei tempi, perché una volta il dolore era un problema grosso. Altri cambiamenti è l'ulcera, una delle patologie più diffuse specialmente era l'ulcera, perché la gente veramente subiva operazioni, ma si facevano dei buchi nello stomaco che erano dolorosissimi, dolorosissimi. L'avvento di tutti i farmaci contro l'ulcera hanno cambiato totalmente, per cui non credo che si operi più nessuno di ulcera nello stomaco, perché con tutti i farmaci, pantoprasolo, meprasolo e compagni, l'ulcera è stata completamente debellata. Altre malattie che sono state debellate sono, ripeto, tutte quelle legate ai tipi degli antibiotici. Uno dei fenomeni però che si è presentato è che la vita media quando io ho cominciato l'ulcera nel 1950 era di 45 anni per gli uomini o 43, 45 e 48 per le donne, perché la polmonite, la tubercolosi, la seticemia, tutte queste cose. Col passare degli anni, però nel momento in cui noi abbiamo introdotto tutti questi farmaci, che cosa è avvenuto? È avvenuto che la vita si è prolungata, ma prolungandosi la vita sono subentrati i fenomeni degenerativi. Per il fenomeno degenerativo intendo che uno che ha un fegato a 40 anni, a 80, non è lo stesso fegato, è giù di questo passo, il rene, il fegato, etc., subiscono dei cambiamenti, cambiamenti anche a livello cerebrale, perché per esempio io quando ho lavorato non si conosceva l'Alzheimer, non c'era, c'era qualche demenza senile in persone che passavano, perché anche allora c'era chi arrivava a 70 anni, 80 anni, però arrivare a 70 anni, 80 anni, insomma l'era un bel traguardo, la mia età sarebbe stata, non so, mi avrei a guardare per strada per divagare quelle cose, allora i fenomeni degenerativi e i fenomeni dell'infortunistica hanno portato un cambiamento al tipo di vita, l'argomento sarebbe lungo, ne se parliamo la prossima volta.